Ciao, mi chiamo Henry, pratico calisthenic da ormai sette anni, ho iniziato per un motivo o per un altro, per allenarmi un po' più alla perca, un po' il lavoro mi ci ha portato, nel frattempo con Hobbit Tommy, il mio carissimo socio se si può dire, abbiamo deciso insieme ai ragazzi di Shine di creare una struttura unica che potesse dare la possibilità di potersi allenare tutti e siano, di là è nato Calisthenic in Darsena, come è nato anche ovviamente Parkour in Darsena, era già presente con Shine, ed eccoci qui, dopo esattamente 4 anni, cosa è Darsena per me? Darsena per me è ormai di un proprio punto di incontro, ho creato mille legami, tantissime amicizie, ho conosciuto tantissime persone, secondo me Darsena è stato un progetto veramente interessante, sarà un progetto interessante, spero si sviluppi molto, però potrebbe essere una sorta di area innovativa dove ci sia la possibilità di crescita per start-up, per bar, ciringhiti, perché no? Per magari strutture che permettano di fare corsi, può esserci qualsiasi cosa, io ci vedo tanto in Darsena, secondo me si possono prendere molte iniziative dal punto di vista di teatro, improvvisazioni all'aperto, perché no dare una possibilità con un palco che permetta alle persone di poter organizzare in maniera probabilmente anche gratuita, a spettacoli, lanciare comunque nuovi artisti ravennati, perché no investire un po' nella cultura, d'oltre non della ravenna, cultura neale. Grazie. Grazie.